Ciao Caterpies e bentornati per un'altra parola sul canale iCaterpi, forti delle nostre 4 medaglie Continuiamo alla ricerca di cosa ci aspetta con questo Pokemon Master So che i capitoli sono ancora tanti ma la medaglia che manca è soltanto una Per cui sono molto curioso di sapere che cosa ci riserva anche ora Prima però, sigla Dunque eccoci qua, mi ricordo che avevamo nella storia finito di prendere Iris Perché io l'ho detto li prendo praticamente E adesso andiamo avanti con la storia, non ho idea Oh l'ultima medaglia, quindi ho quasi idea di sapere che cosa ci aspetta Si comincia, let's go Siamo lasciati di stare un attimo, direi che è arrivato il momento di tornare a pensare alle medaglie Bravo Brock, così mi piace Bella, bella, bella Il capo di WPM che stiamo per sfiarla Qua è sia una ragazzina, la sua giovane età però non è impietta di diventare la Kahuda Adoro sto caglio Kahuda Gemme, gemme, dai gemme, gemme Già gemme, dai gemme, mi servono, non mi servono, voglio blu Dunque Erba e Drago Modifica Di Drago Di Drago c'ho Axorus Che prendo a livello basso basso, diciamo che prendo sicuramente Brandon Sapete che vi dico, se tanto mi da tanto io mi tengo anche Karen Ci pensano poi ad allenare gli altri, finché riesco ad andare avanti con questa squadra me la tengo Alla fine Karen ho visto che attacca tutti con loro rabbia per cui Mi è piaciuto, mi è piaciuto Allora Semitraglia Urlo rabbia Eh vabbè allora Ragazzi con due urlo rabbia ne faccio fuori tre Direi che possiamo coltivare così ancora per un po' no? Forza, forza, forza Che questa ce la passiamo easy Dunque, dunque, dunque Un fanta allenatore come me non dovrebbe perdere Ma, ma Che dire Bello il palo stand Allora, questo è debole Questo pure E andiamo di urlo rabbia Oh, non gli ho fatto niente Non so bene perché non gli ho fatto niente a quello Vuoi vedere che alcuni di questi Pokémon hanno delle passive? Che, mi ricordo che un paio di puntate fa, se non la scorsa Mi è stato detto che i Pokémon hanno anche delle passive Per cui magari qualcuno di queste passive dice che non possono subire i danni di tutti Va bene, 30 gemme Ci portano sempre più vicini Alle 3.000 No, intrusi, che palle Ci sono ancora quelle cose Ah, Api Spiacente, niente medaglia Cioè, hai perso ancora Non ci posso credere Api più fiducia in te stesso Oggi avevano proprio un attimo di tregua Perché c'è la propria vita Contro di voi, se non la devo ammettere di essere un po' stanca Ecco, ecco che arriva Ah, di nuovo vi per vendetta Guarda cosa abbiamo qui Oggi ci ritorniamo a casa con un bel bottino di Pokémon Vabbè, dai Se proprio devo mi prendo queste 30 gemme Ah, in 6 sono addirittura Vediamo se questo urlo rabbia può fare qualcosa Meh Vabbè, 2 su 3 mi fa fuori C'è quell'Axio che resiste parecchio Ah, Gibo l'ho mancato La vittoria è nostra Attacco e attacco speciale più 6 Wow Verde bufera Boom Guarda, non so neanche a usare l'unimossa Non serve, davvero Nei momenti in cui sono deboli erba Non è che possano qualcosa contro questo trico Molto bene, molto bene Ci piace Animo avventato Ah 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 Tra poco arrivano i miei compagni Danno una bella lezione Va bene Non è mica cosa da poco Cosa c'è? Cioè, non sei riuscito a prendere una medaglia Che è uno da quando ho visto? Vabbè Conta pure su di noi Bisogna stare in campana Ma chi è che parla così? Stare in campana Vabbiamo a scoperta per capire com'è la situazione Questo lo troviamo a terra mezzo morto Già lo so Guarda, guarda, ci scommetto, ci scommetto Questi? Ti manca solo una medaglia Manca solo una medaglia Sì signora Let's have a battle Let's have a battle Allora Urlo rabbia Urlo rabbia Urlo rabbia Urlo rabbia Oh, la perfezione Guarda che bello Il 3k in un colpo Palapalapalapalapalap Potrei avere anch'io un futuro Perciò pensavo in tessi di impegno Un birdhipede, che carino No Davvero mi piange il cuolo A vederti così Sei felice se fosse mio È l'unico su cui contavo Guarda Bello questo alternator Bello davvero Ah non l'ho fatto niente Stavolta invece sì Vediamo se questa verde buffera può fargli qualcosa Tipo il one shot Te lo compro ti pago qualunque cifra Male male amico mio male male Dritti in trappola Non mi sono ancora impiesa la notte Questi famosi mi ha ammazzato No Botti fai fregare del pokemon Hai perso Daglielo dai Spero non stai più carci Questa mezza calzetta Non ci fa contenere le tue emozioni Spero che tiene molto gli amici Amici Oh e non lo conosco Non so chi sia Però vabbè Monte 3 Papà 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 Uuhu Questa lamina figo figo Urlo rabbia Urlo rabbia Urlo rabbia Urlo rabbia No, ma semplicemente ogni tanto manca Urlo rabbia, urlo rabbia, urlo rabbia, urlo rabbia C'è unimossa Mi chiedo se le unimosse prendano i boost degli attacchi, delle difese Impatto unità drago Wow Non mi fa ovviamente nulla perché sono al 70, però ho tanta roba Aspettiamo la verde bufera, questo Boom, 1213 Toglie quasi di più la verde bufera che l'unimossa Tutto molto bene, tutto molto giusto Le preoccupazioni di Owen, che sei scarso zio Sei davvero scarso Scappa, 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 scappa Se mi fai messo a vedere da te, sei mi dato un'abitudine Tutto bene, quel che finisce è bene Grazie alla tua imprudenza sono riuscito a vedere qualcosa di davvero interessante Non è mica tutto il hotel per i fain orgogli di un amico Vai tra Arrivo, arrivo zia, arrivo Me ne vado, bravo Dopo avermi scoppito, mi metto non so abbastanza sicuro di me Mi mettevo per pensare alle sue parole Bravo, bravo, bravo Ci vediamo tra un mesetto o due Questa che c'ha il naso rosso Ah no, è finito Let's go Okidoki 10 gemme regalate E, 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 api Arriva, api, apu, api No, ho altri alleatori Per la squadra è già una potenza di 20.000, buono Da dove sei spuntato fuori, fammi capire Cioè, te ne stavi nascosto dove, nell'erba Vabbè Sì, arrivo, arrivo Urlo rabbia Urlo rabbia Urlo rabbia Urlo rabbia Urlo rabbia Vediamo se il verde bufera fa il one shot Nooo, ha evitato l'attacco Ha evitato la verde bufera No Ho perso Sì ma non c'è bisogno di urlare Non urlare Mi stavi fissando Ah la cosa positiva è che qui se fissi qualcuno C'è una lotta di pokemon E non ti pigli ammazzate Per cui almeno quello Urlo rabbia Urlo rabbia Urlo rabbia E semitraglia Mi piace semitraglia È casuale perché probabilmente fa dalle due le cinque nostre Però mazza se mena Mi sono già talmente intimorita che se la dà la fuga Vabbè posso capire Arrivata Api Un motivo per lottare Oh e dove è finito Certamente Intanto ve li siete meritati C'è mia altra medaglia ancora prima Non mi serve lottare So già che avete le carte in euro per ottenere la mia medaglia Avere la forza Le mosse del giusto gioco di squadra Per proteggere coloro in cui il gol viene ferito Ok Porta a casa Ho una piccola richiesta Che ne dite di lottare con me Ma prima cosa sono un'allenatrice Qui fammi capire C'è Mi hai Mi hai prima dato la medaglia E poi mi chiedi di lottare Ok Vabbè Boss contro api Quanti siete in 5 Vabbè Uno rabbia Super colpo Urlo rabbia Urlo rabbia Urlo rabbia Urlo rabbia Eccoci qua Ora facciamo fuori I vari tizi alato Aia Furore della terra Vabbè E ora E ora Mi spiace Questa è l'unimossa definitiva No non lo è Vabbè Sematraglia Scatarragli qualche sementata Hai sconfitto api Tutto molto bello Tutto molto giusto Viene anche da me? No Ah Sì che viene da me Mi avete lasciato senza parole Che lotta portentosa Molto bene Molto bene Perché ridi? Non c'è più per spintare Armai lo stesso Sto in unità Ah 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 Ma ricorda che non fa bene Tenersi tutto dentro Vi accompagnò Mi è venuta voglia di vedere Così potrei raccontare le mie avventure Molto bene Dove stai andando? Ma come granita Ha detto granita Bella Molto bene Si aggiunge un altro tassello Sono api La cauna di pony Figa Stato di tipo terra Non mi sembra di avere nessuno Roccia si ma terra no Nuovo capitolo Capitolo speciale 1 Qui? Ah non abbiamo finito eh Va bene Dunque Prossimo capitolo Episodio speciale Di api Dopodichè Andremo a vedere Che cosa ci riserva Brock con il suo Capitolo speciale Sono molto curioso Bene ragazzi Abbiamo tutte e 5 le medaglie Ora si va Dritti per la via del WPM Spero di avervi Trattenuto Dove ragazzi Se volete mettete un bel mi piace E iscrivetevi al canale E noi ci vediamo presto Con il prossimo video Ciao Quattro e peace Ciao